Sì, esatto, un consiglio da non perdere. I Casar ritornano sul palco scenico da soli dopo ben 36 anni presentando il nuovo spettacolo con un repertorio originale. Nascono nel 1981, per chi non lo sapesse, a Milano in una cantina della periferia in quel periodo molto attivi con esibizioni live e provini discografici nella zona di Milano e dintorni. Poi nell'87 sciolgono il gruppo e dopo quasi 40 anni hanno deciso di rivisitare insieme alcuni dei loro brani anche oggi propongono uno spettacolo che racconta le loro esperienze di vita nell'ultimo decennio della modernità, quindi negli anni 80, attraverso canzoni originali, divertenti, aneddoti e piccoli video. Quindi uno spettacolo molto interessante.